Sono un ausilio che non si stanca, che non può prendere infezioni, che non va in malattia. Sappiamo che il personale medico, il personale infermieristico è stato colpito in maniera dura da questa infezione e il fatto che Robo non possa essere affetto da Covid è una grande conquista. Grazie.